in questo video vediamo presente indicativo dei verbi scegliere salire e rimanere li vediamo assieme perché hanno una struttura simile iniziamo dal verbo scegliere come scegliere ci sono parecchi verbi che finiscono tutti in gli ere per esempio togliere cogliere sciogliere eccetera è interessante vedere anche come questi verbi si comportano tutti nello stesso modo per esempio nel participio passato e nel passato remoto vediamo allora il verbo scegliere io scelgo tu scegli lui sceglie noi scegliamo voi scegliete loro scelgono guarda il verbo cosa noti le terminazioni sono regolari e irregolari e tutte le persone si formano nello stesso modo o partono da una radice diversa metti in pausa il video e osserva il verbo allora sicuramente avete notato che la prima persona io e l'ultima persona loro non partono da scegli come il resto del verbo ma partono da scegli infatti quello che fa questo verbo è scambiare la g e la l in queste due persone il resto del verbo è perfettamente regolare e le terminazioni in tutte le persone sono regolari come quelle di un verbo in ere se noi ci ricordiamo la regola secondo la quale molti verbi in ere e inire formano la terza persona plurale loro partendo da la prima persona e aggiungendo no vediamo che in realtà basta sapere le prime due persone e tutte le altre si possono derivare allora sapendo che salire a una struttura simile a scegliere metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo salire ecco la soluzione io salgo tu sali lui sale noi saliamo voi salite loro salgono vedete che anche qui la prima persona singolare e la terza persona plurale cambiano un altro verbo che si comporta in questo modo è il verbo rimanere le prime due persone sono rimango rimani metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo rimanere il verbo rimanere rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimangono come potete vedere tutti questi tre verbi sono irregolari alla prima persona singolare e alla terza persona plurale il resto della coniugazione è completamente regolare grazie a tutti